E' tempo di castagne e di caldarroste, di feste per grandi e piccoli. Giovedì scorso gli amici della casa di riposo Renato Vasini di Fornavotaro si sono ritrovati con gli ospiti della casa insieme ai loro cari e gli operatori per una castagnata in compagnia agliettati dalle allegre melodie musicali di Enzo Gandini. I cosiddetti bruciati sono stati preparati dal gruppo sentieristico della Volpagana, un macchinario semplice e ingegnoso. Sono stati abbrustoliti in un cestello di una lavatrice una decina di chili di mini marroni per circa una quarantina di minuti a fiamma moderata, girata in continuazione con il dolore elettrico da farle rimanere morbide al loro interno. Un impianto questo del gruppo della Volpagana quasi tutto automatico. Una volta cotte sono state bagnate con del vino bianco e lasciate riposare in un canovaccio prima di essere sbucciate con cura per gli ospiti della casa. Caldarroste come ciliegie, una tira l'altra. Nel gustarle le gustose castagne e chissà quante ricordi sono venuti in mente, sicuramente quelli più lontani, di quando si era bambini.